Seconda parte del video di Califano, ah scusate, ora sono un pochino più in linea con me Allora, seconda parte del nostro video di Califano Questa volta la protagonista non sono io, ma tra poco andremo a prenderla, tra poco arriva Olivo Sono le 9, è un pochino più mite come temperatura, non come l'ho fatto io che c'erano due gradi Comunque è freschino anche stamani, ok? E andiamo a prendere la nostra attrice, una ragazzina Insomma, questa è la seconda parte Poi dobbiamo registrare in studio il pezzo con me con le cuffie, penso Perché Olivo cambia idea ogni 4-5 secondi E poi dopo il video uscirà dopo queste due anteprime Sweet home, anteprima Siamo partiti Io, Stefano e Elena Allora, questa è la seconda anteprima, prima l'ho già montata Andiamo dalla nostra attrice Stai sveglio? Sì Pensate che sono le 10 di mattina e questo chi ha un sonno? Sono qui con la mia attrice E la sua sorrellina Allora, stiamo in attesa che Stefano Monti tutto Se tutto va bene, fino a mezzogiorno non siamo qui Sì Vediamo bene E niente E iniziamo tra pochino Ecco, sta arrivando Stefano con l'attrezzatura E One, two, three Azione Vedete stare fuori da questi 7, grazie Sì, è antipatico Sta dicendo Rebecca che è perfetta Ma io questo lo sapevo di già se non l'avevo chiamata Mi sto svegliando Buongiorno E' l'ora di andare a letto e lui si sta svegliando, capito? C'è perché lui? Oh Ma questo è un verde Guarda, mi dai quel verde? Questo Ma io sarei più per questo, guarda Ecco Non siamo mai d'accordo su niente Ma lo vedi come è fresca, veloce a comprendere il verde? Io odio questo uomo Che mi ha inserito in questo mondo Di youtuber Intelligenti che vengono Vabbè taglio Passi tu Ma vedi come capisce subito le cose Vabbè taglio Dipinsi l'anima su te l'anonima e mescolai la bocca con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come una persona guarda le tele con aria ironica e mi giocai ricordi provando il rischio vuoi di rinascere sotto le sedi Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella sui tom annesa fa così